Grazie a tutti nel mio canale, oggi siamo ritornati su... no, siamo ritornati Siamo finalmente su FNAF 6 FNAF 6 Pizzeria Simulator Vi porterò tutti i FNAF Questo è FNAF 6, vi porterò FNAF 5, Sitter Location Vi porterò FNAF 3, vi porterò FNAF 4, vi porterò FNAF 1 Vi porterò tutti i FNAF Ragazzi, questo è FNAF Pizzeria Simulator Saluto il mio migliore amico Domenico e noi iniziamo Lui, mio amico Domenico E saluto Giuseppe Federico Che è l'amico di scuola di mio fratello che si chiama Mattia Mi ha detto di salutarti, quindi ciao, che in quei tu sia Perfetto Il mio migliore amico Domenico mi ha già avanzato un pochino Come si fa a comprare? Boh, non so come si fa a comprare Però No, non ho soldi, ecco perché non posso comprarlo Quindi direi che Guarda, questa sarà la nostra pizzeria Naturalmente per adesso è così Qua ci andranno messi gli Animatronics Qua con tutte Qua andrà messo questa, perfetto Qua non può esserci messo niente Qua niente, qua niente Quindi qua abbiamo cominciato a metterci questo Quindi ragazzi Mi sa che abbiamo finito Di arredare Per oggi la nostra bellissima cucinetta Cucinetta Adesso Siamo qua Sto scannerizzando Perfetto Perfetto Che I comandi Sono diversi Da FNAF Come lo conosco io No Quindi consigliatemi Qua sotto nei commenti Come sono i comandi Di FNAF 6 E nel frattempo Direi che noi possiamo Continuare FNAF Sister Location Io sto portando Veramente Tanti FNAF In questo periodo E a voi vi stanno piacendo Veramente tanto Quindi Vi chiedo Ogni giorno Like Ma per oggi Mi raccomando Dobbiamo riuscire ad arrivare a 4 Mi piace Quindi ragazzi 4 mi piace Nuovi episodi di FNAF Nuovi episodi di Sister Location Nuovi episodi di FNAF Nuovi episodi Ecco Vi porterò tutta la serie Naturalmente di Scott Coulton Che è FNAF E forse un giorno Quando arriviamo a 20 iscritti Per lo speciale 20 iscritti Vi Raconterò la storia di FNAF Faremo la reazione Al video Che racconta la storia di FNAF Io la so già Però quel video Non l'ho mai visto E non lo so Se come la so io La storia di FNAF È abbastanza aderente A come so il video Però direi Che possiamo continuare È Sister Location Me l'aveva già giocata Un po' l'ore Per provarla Ma Non ha fatto tanto È stato soltanto In un ascensore Infatti no Infatti non mi ha fatto niente Allora Questo è FNAF Sister Location Qua vediamo Ballora Qua vediamo Baby Baby Cosa è successo ragazzi Ragazzi Era crashato un attimo Boh Non saprei Comunque Siamo qua Su FNAF Sister Location Vediamo di giocarla Questo qua Più che altro Sarà un video Parlato Non so come si gioca Ragazzi Se sapete come si gioca Scrivetemelo sotto nei commenti Credo che sia come Eh Boh Scriviamo a caso Tanto Beh Errore Mi pare ovvio Allora Mi chiedeva Mi chiedeva scrivi il tuo nome Mi è scritto Ex Bene Una roba del genere Lura FNAF Dove c'è Dove c'è Dove c'è Dove c'è Dove c'è Dove c'è Chica Funtime Chica Beh ragazzi Mi sa che questo episodio Finisce qui Se volete che la continuiamo Che facciamo la notte 1 Arriviamo a quanto mi piace Ciao